cari amici di miniatures of death ben ritrovati questo è un video che azzarderei a definire bonus chi di voi mi segue sa che sto facendo un paio di trasloghi consecutivi cosa che non mi permette di avere al momento un posto dove effettuare le registrazioni motivo per cui non vedete il mio bel faccione tondo tornando a noi tempo fa ho dipinto uno degli eldar dal box kill team natchmund e ho pensato che fosse venuto abbastanza bene tanto da volerti raccontare come ho realizzato l'armatura che è l'unica cosa che vedremo in questo tutorial gli skywriters erano una banda di corsari aildari alleata con le due fazioni principali di kraftwolves alaitok e maimeara spero di averlo pronunciato bene durante la ritirata degli asuriani dal mondo di betalis terzo durante il massiccio scontro navale vicino alla nebulosa carina gli skywriters divennero famosi per la malvagità dei loro attacchi e in seguito l'analisi dei resti delle loro vittime fu comunemente scambiata dagli adepti meno esperti per attacchi più simili a quelli effettuati dai cacciatori di drucari saltiamo i passaggi iniziali già visti tante volte la miniatura è già montata imbasettata e primerata di nero ad aerografo i colori di base li daremo ad aerografo appunto iniziando dalle zone più in ombra con un omega blu di di army painter serie air ovviamente il colore come già sai è pronto all'uso mi è bastato quindi inserire qualche goccia direttamente nella coppetta dell'aerografo e siamo pronti per iniziare ho dato quindi il colore in maniera uniforme concentrandomi sull'armatura e le zone più in ombra questo infatti dovrà essere il colore di base che esalterà ombre e recessi a questo punto una sciacquata veloce all'aerografo e via con il secondo colore la comodità di avere i colori ad aerografo pronti fa davvero risparmiare un sacco di tempo perché altrimenti dovresti diluirli ogni volta sono passato quindi ad ionic blu più brillante ed acceso che ho steso dall'alto per lasciare che le parti più nascoste e in basso rimanessero in ombra questa è una tecnica che abbiamo già visto un paio di anni fa con i tutorial sui blood angels trovi il link qui in alto a destra a questo punto ho usato una goccia di psychic shock un verde acqua per creare dei punti di luce e diversificare le tonalità credo che in questo caso abbia abusato un po di questo colore forse era meglio creare dei veri e propri punti spot sulle spalle casco ginocchiere e così via prima di raccontarti questo schema in questo video come dicevo prima avevo provato a dipingere un'altra miniatura degli eldar con questo schema di colori in modo da far pratica credo che il risultato migliore sia stato il primo tentativo per assurdo prima di continuare con del nero opaco ho ridato un fondo a tutte le parti della miniatura che non andavano colorate con l'aerografo sta un po a te dato che la verniciatura d'aerografo è particolarmente sottile puoi procedere in questo modo ma se preferisci puoi anche dare direttamente dei colori base io ho preferito riportare il nero ovunque così da farti a vedere anche come viene l'armatura completamente dipinta già inizia ad avere un altro aspetto non trovi proseguiamo con gli ultimi due passaggi per primo ho usato uno shader blu di città del dragon of night shade per rafforzare i recessi non ho quindi effettuato un lavaggio completo ma ho usato il pennello con una punta di colore per andare a posizionare lo shade per capillarità nei recessi è un lavoro che richiede un po di precisione si impara solo con la pratica con il tempo ti verrà naturale passare il pennello con la giusta quantità di colore e solo nei punti dove lo vuoi portare senza sporcare il resto della miniatura e se sporchi non ti preoccupare con l'ultimo step vedremo come rimediare a qualche errore sfruttando le caratteristiche degli altri skyriders qui come vedi sono passato ad un valleio per gli highlight non c'è un motivo preciso ho solo pensato che questa tonalità di azzurro di cui disponevo fosse particolarmente azzeccata con il pennello carico solo sulla punta più estrema quindi sono andato a sottolineare gli spigoli e le parti più illuminate non è un passaggio prettamente necessario soprattutto se dipingi per giocare a Kill Team però sicuramente così dai alla miniatura più profondità e contrasto e contrasto fatto questo puoi ora dipingere a mano libera usando un nero pieno le tipiche striature di questi corsari Eldar onestamente un po' di mano ferma ci vuole e non lo dico pensando di averla anzi ma perché provando mi sono reso conto che basta poco per far diventare la striatura una brutta macchia sull'armatura il mio consiglio è di disegnare le striature in maniera opposta alla posizione della miniatura tendenzialmente con un'inclinazione di 45 gradi questo darà movimento al personaggio rendendolo meno statico evita per capirci di disegnarli lungo il braccio o lungo la gamba e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se il tuo video bonus, chiamiamolo così, ti sia piaciuto, come sempre ti invito a mettere un like, lasciare un commento se hai qualcosa da condividere e a condividere con i tuoi amici il video. Come sempre noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.